Salve a tutti, qui il vostro Aion. In questo video parlerò dei metodi per trovare gli aspetti che vi servono per completare le vostre build. Gli aspetti sono fondamentali per potenziare il vostro personaggio e per iniziare potete usare i codex, aspetti che trovate completando specifici dungeon che al loro completamento vi garantiscono l'aspetto desiderato. I codex, a differenza degli aspetti che estraete dai leggendari dall'occultista, sono permanenti e possono essere infusi negli equipaggiamenti tutte le volte che volete. Ma attenzione, il valore dell'aspetto che sia in percentuale oppure in cifre numeriche saranno sempre con il valore minimo. Quindi se cercate aspetti con il valore maggiore o perfetti, siete obbligati a cercare i leggendari con gli aspetti di valore maggiore che desiderate. Ma per iniziare a creare le vostre build sono sicuramente comode. Un altro fatto da notare è che non tutti gli aspetti sono disponibili dai codex dei dungeon e la maggior parte si trovano esclusivamente all'interno degli oggetti leggendari. Come saprete anche voi su Diablo 4 c'è molto fattore RNG e quindi non ci sono modi garantiti per cercare gli specifici aspetti. Ma c'è un modo per facilitarne le ricerche e questo grazie al vendor La Torre della Curiosità. Questo mercante in cambio di oboli vi permette di rollare oggetti specifici, esempio armi di vario tipo, armature come elmo, pantaloni e scarpe ed anche anelli amuleti, ma in modo completamente casuale con risultati sia buoni che non. Però la percentuale dei drop dei leggendari da questo vendor è molto alta. esempio comprando 8 spade si possono ottenere dai 2 ai 3 leggendari. Un appunto da sapere è che da questo vendor comprando armi si possono ottenere solamente aspetti offensivi e quindi per quanto riguarda barboli e tagliagole consiglio di comprare spade perché quello con la spesa minore e per quanto riguarda le altre classi, cioè druido, maghi e negromante, è consigliato l'acquisto di totem. Come detto, essi garantiscono aspetti di categoria offensivi al 100%. Se invece cercate aspetti difensivi dovrete acquistare i pantaloni, che garantiscono aspetti difensivi. Le scarpe invece garantiscono aspetti di movimento o utilità. Gli anelli invece garantiscono aspetti per le risorse, cioè furia, mana, spirito, eccetera, ma con la possibilità anche di trovare aspetti offensivi nel mezzo. Ma come farmare questi oboli? Gli oboli si trovano generalmente nelle casse che si ottengono dagli eventi, che siano le casse delle legioni, degli eventi a zone o all'interno dei dungeon e anche negli eventi dentro le cantine. Se volete farmarle velocemente vi consiglio di trovare una zona con 3 o 4 eventi nell'area e farvi il giro di questi eventi. Oppure cercate un evento nelle vicinanze di una cantina, per poi resettare tale evento entrando e uscendo dalla cantina. Ma quello che vi consiglio di non perdere è l'attività in game delle maree infernali. Un'attività pieno di elite e eventi a zone che vi permettono di acquisire sia oboli per il vendor e un sacco di loot di oggetti tra cui leggendari. In più con le braccia acquisite sarete in grado di aprire le casse misteriose delle maree infernali, con garantiti drop di leggendari. Quindi un evento sicuramente da non perdere. E questo è la mia guida su come facilitare la ricerca di aspetti specifici. Spero che questo video vi sia stato utile, non dimenticatevi di lasciare un bel like ed iscrivervi al mio canale, attivando la campanellina delle notifiche se non l'avete ancora fatto, per essere sempre aggiornati ai miei prossimi contenuti. Vi invito a unirvi nella mia community discord per giocare o semplicemente scambiare due parole. Trovate qui sotto in descrizione il link. Grazie della visione. Alla prossima dal vostro Ion.